Allora, credo che la maniera migliore per incominciare questo incontro sia ascoltare una canzone che forse qualcuno di voi ha già sentito. Allora, credo che l'idea che ho oggi ci siano a Torino Caterina Caselli e Paolo Conte non può essere riassunta meglio se non da questa canzone notoriamente di Caterina Caselli, notoriamente scritta da Paolo Conte, notoriamente utilizzata in ben due film l'unica canzone che Nanni Moretti utilizza in due film che sono Bianca e La stanza del figlio quindi ha anche una componente cinematografica quantomeno di uso molto forte e poi è una canzone che sa raccontare una storia e che in un festival che si svolge anche in un periodo piuttosto particolare per quanto riguarda i diritti delle donne e così via una canzone intitolata Insieme a te non ci sto più, credo che sia una manifestazione di libertà molto forte di cui Caterina Caselli è sempre stata, se pensate che su un successo si chiama Nessuno mi può giudicare insomma credo che si vada decisamente in quella direzione. Benvenuta a Caterina Caselli noi oggi non parleremo della sua carriera cinematografica sulla quale peraltro racconta aneddoti divertentissimi ma che ha già raccontato insomma che racconterà e così via perché Caterina Caselli è qui oggi in quanto produttrice del film che racconta il concerto alla scala di Paolo Conte ed è qui in quanto la Sugar, la casa di edizioni musicali da lei diretta, ha un intreccio con il cinema, con il cinema contemporaneo veramente forte, notevole, importante e interessante. Tutti sapete che lo scorso anno c'è stato un documentario italiano che è uscito al cinema fatto da un grande italiano dedicato a un altro grande italiano, l'italiano che l'ha fatto si chiama Peppuccio Tornatore l'oggetto di questo documentario è Egno Morricone, sapete anche il successo che ha avuto quel documentario che credo, qui c'è Davide Ferraio che poi coinvolgeremo insomma che credo sia il sogno di tutti coloro che fanno i documentari perché lì basta che uno citi un film e hai subito il pezzo del film, cosa che sappiamo non succede quasi mai nella realtà in questo film ovviamente c'è tanta musica e c'è anche lo zampino di Caterina Caselli ci racconti il tuo rapporto con questo film Caterina? Ma diciamo che con il film naturalmente ma con Ennio Morricone se vogliamo Certo E di questo vuoi che parliamo Certo Ennio lo conosco da tantissimo tempo, lui faceva parte anche della musica cosiddetta assoluta di cui siamo editori, la Suvini Zerboni è editrice, la casa editrice ed è un, come dire, l'ho incontrato anche diciamo prima di questo film proprio perché so che lui amava molto le voci amava la voce di Elisa e un giorno mi ricordo che andammo a casa sua Elisa venne con noi e gli chiesi se poteva scrivere una canzone per il disco di Elisa e lui disse sì 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 c'era la canzone c'era la canzone sono andata a casa, lui mi ha scritto, mi ha detto mi devi mandare sul pentagramma la tonalità di Elisa, la voce più alta e tenuta sul pentagramma però perché io così costruisco una canzone esattamente per lei di mettere in evidenza le sue doti pazzesco e questa canzone è stata poi, ha fatto un provino Elisa è stato mandato, mio figlio Filippo Sugar è andato a Los Angeles conosceva, aveva un appuntamento con Mary Amos che era la music, con lei che sceglieva le musiche per il film di Tarantino lei è rimasta colpita da questo l'ha fatto sentire a Tarantino e ha detto finalmente ho qualcosa di inedito perché lui era un amante di Ennio Morricone e di solito per i suoi film chiedeva all'editore pezzi suonati di altri film e insomma quella canzone è entrata nel film Django e addirittura l'abbiamo visto, c'era anche Tarantino a Roma, mi ricordo e c'era Elisa che era incinta e io disse a Elisa proprio, c'era Ennio e disse a Elisa sei sicura di vedere il film perché era in un momento e lei ha detto no no no, abbiamo visto questo film e all'inizio proprio c'era musica di Ennio Morricone, parole di Elisa Topoli ed è stato un momento magico quindi questo voglio dire che la musica insieme al cinema ma sono sempre andati in stereo come si può dire in termini musicali e mi ricordo anche per esempio una volta ci trovavamo a New York perché avevamo creato questo incontro addirittura con la New York Philharmonica Orchestra che aveva dedicato in programmazione all'apertura due serate proprio con tutti i musicisti dai film italiani e c'era Martins Corsese che disse proprio nella presentazione disse io quando sento una canzone di Norotta vedo il film di Fellini e questo è qualcosa molto importante quindi il significato semplicemente è che la musica insieme al cinema musica poi di Paolo Conte non ne parliamo perché già lui ti porta dentro tu vedi, senti un testo, segui un testo di Paolo Conte è come se tu avessi una camera dentro di te comincia a viaggiare con lui, ti porta per mano i paesi, i racconti meravigliosi stavo pensando a Nanni Moretti Nanni Moretti è stato affascinato da Insieme a te non ci sto più in due film come dicevi prima tu Steve in due film ha voluto questa canzone e la cantano tra l'altro insieme infatti la canta anche la canta anche però la canta e poi insieme anche l'attrice che è bravissima e ci ha vinto il festival di Cannes come ricorderai insomma non male quel passaggio tra l'altro era noto a tutti ed è quello che tutti ricordano perché è grande prossimamente anche del film quindi è un passaggio notevole e fondamentale quando ti chiedono una musica da te rappresentata un autore da te rappresentato per un film quali sono le valutazioni che tu fai per dire sì oppure no? cioè cos'è che qual è la richiesta che tu poni? tanto è importante io conosco se il regista lo conosco ovviamente è importante tra l'altro se vuoi possiamo raccontare un episodio recente sì di collaborazione il regista è Davide Ferrario non so se è lì qua eccolo è il regista ed è anche il tuo regista per lui ti ha fatto recitare esatto io ho fatto anche l'attrice però c'era Valerio ma c'era Andrea che era bravissimo la prima buona il film era tutti giù per terra ma così bravo ma così bravo comunque lui può raccontare tra l'altro un episodio recente proprio di collaborazione tra cosa può succedere tra un editore in questo caso un editrice e un regista che cerca qualcosa per il suo film ecco Davide beh tanto ben ritrovato racconta anche però Caterina Caselli attrice perché anche io mi ricordo un po' la storia anche del coinvolgimento di Caterina Caselli non so se me la ricordo bene ma sì lo scrivo stamattina sul Corriere cioè io sono uno dei pochi credo che possa dire invece di essere stato scoperto di aver scoperto io lei perché noi cercavamo un'attrice che facesse la zia di Valerio in Tutti Giù per Terra e avevo visto tante attrici professioniste brave tutto però quel film io ci avevo in testa una cosa che partiva dall'idea stessa di Valerio cioè una freschezza di qualcosa di diverso dal classico lavoro con un attore per cui non ero contento e una mattina ma veramente è andata così guardavo e c'era il festival di Sanremo era un bar vedo la televisione mentre bevo il caffè e vedo una signora di mezza età con una bella faccia che stava chiacchierando con qualcuno e mi dico così dovrebbe essere la zia salta poi fuori alla fine che eri tu diciamo che è in realtà volevo semplicemente dire che è un tipo così e dice ma io Caterina la conosco e nasce questa cosa per cui mi ricordo partiamo io Gianfranco e Valerio perché tu alla prima telefonata rispondesti non avevi neanche capito secondo me pensavi che volessimo fare la colonna sonora del film con te perché lei ha fatto solo i musicarelli eccetera invece ero convintissimo la mettemmo alle strette andammo a trovarla la costringemmo a venire e nel settembre ottobre del 96 passiamo quella bella settimana nelle langhe peraltro perché la zia era lì e è nata credo un'amicizia che ancora è così e che ha prodotto tante cose tra cui quest'ultima qua ma prima ce n'è una in mezzo che chissà se tu te la ricordi sta roba qua lei si era non so si era appassionata un po' a quello che facevamo e al sottoscritto dice un giorno dice vieni a Milano che ti faccio incontrare una persona e mi portasti in uno studio di registrazione dove c'era una giovane ragazza che stava incidendo e mi presentassi dice questo è Davide Ferrario e lei si chiama Elisa era il suo primo disco e ti ricordi Elisa allora incideva solo in inglese lo fece credo per un po' di e te non questa cosa perché lei non si sentiva ancora di cantare in italiano non si sentiva nuta quindi non aveva aveva quindi per fortuna aveva un'ottima pronuncia poi avevamo prodotto il disco a Los Angeles con Rustici era bellissimo molto bello infatti bellissimo disco era contemporaneo all'unissimo reset mi ricordo che suonava insomma noi eravamo molto felici certo dicevo dentro di me mannaggia siamo italiani non riusciamo perché diciamo se eravamo in America magari riuscivamo ad entrare subito nel mercato internazionale però è stato un grande successo e devo dire abbiamo avuto grande soddisfazione con quel disco e lei era aveva 17 anni infatti e tu ti ricordi cosa mi proponesti tu ti ricordi cosa mi proponesti mi ricordo cosa mi proponesti per fortuna perché lanciato probabilmente in un delirio autodistruttivo mi dice questa ragazza incide in inglese ma potrebbe fare un po' in italiano perché non gli fai tu il testo di una canzone in italiano sì infatti giustamente hai dimenticato questo aspetto qua ma negli archivi della Sugar ci sono però due canzoni che sono state incise da Elisa io non glielo ho perse perché non sono una cassetta chissà dove sono ma il cui testo è di Davide Ferrario adattato dalle parole originali di Elisa ma sì ti giuro quando torni a Milano vado a trovare dal primo disco e io debuttai finì anche subito perché non furono neanche mai pubblicate in realtà perché era un tentativo di fare la canzone in italiano che poi non fu mai resa pubblica però c'è stato anche sono diventato paroliere per Solassiae per colpa tua però con una canzone di Elisa che non è pop beh magari si troverà poi negli archivi della Sugar dove si è trovato che cosa? ah ecco esatto arriviamo davvero alla questione di cui volevo parlare prima allora io quest'anno ho fatto sto facendo uscire all'anno prossimo un film che si chiama Italo Calvino nelle città è una sorta di mezza via tra un film di finzione e documentario ispirato chiaramente a Italo Calvino e alle città visibili e invisibili Calvino però qualcuno se lo ricorda molti no è stato anche autore di canzoni nel 59 ha fatto una dozzina di canzoni col Canta Cronache Liberovici Fausto Modè gruppo politico e la mia idea quando le ho riscoperte perché si ricorda di solito oltre il ponte quella famosa canzone resistenziale ma ci sono un'altra dozzina che sono veramente affascinanti e la prima cosa che ho pensato è chiamare Caterina e dire c'è questa cosa qua ma perché non facciamo qualche cosa proviamo a riscoprire qualcuna di queste canzoni facendo reinterpretare uno dei tuoi numerosi talenti e lei si è appassionata adesso raccontalo un pezzo tu poi vado avanti io no beh ho parlato con una persona che si occupa della Subini Zerboni quindi è una casa editrice storica mio soffio lo diceva sempre va bene caselli cinquetti però bisogna investire sulla ricerca fino a poi quella musica sarà renderà insomma piacerà al pubblico eccetera e tra questo c'era appunto nel catalogo c'era questo conoscitore di tutta la storia della Subini Zerboni che mi ha detto guardi che noi abbiamo l'ho raccontato della telefonata di Davide e dice guarda che noi abbiamo una cosa e mi ha raccontato mi ha presentato io ho chiamato prontamente lui gli ho detto guarda che noi abbiamo però giustamente il nostro collaboratore dice no bisogna chiedere il parere alle redie stai dimenticato stai parlando di un pezzo di Luciano Berio di Luciano Berio è il contesto di Italo Calvino del 59 e a quel punto siccome la musica è un po' complessa perché insomma Berio non è proprio così semplice e allora chi poteva essere l'esecutore di tutto questo poteva essere solo Raffa Igualazzi quindi abbiamo chiamato Raffa che è andato era felice con una basca è andato in studio con i suoi musicisti e mi ha detto Caterina la soddisfazione che sai dell'avere scritto e dell'avere composto suonato non composto suonato questo non ha idea tutti i musicisti erano felicissimi eccetera eccetera per cui poi gli ho detto ma ti sei registrato un po' gli ho detto no no mi sono dimenticato dove è andato e si è auto registrato abbiamo mandato tutto a Davide e diciamo poi adesso il film fa lui tutto questo ma però noi ci siamo limitati insomma a trovare qualcosa che potesse essere secondo me propedeutico al suo film e devo dire abbiamo una versione straordinaria molto alta come direbbero però è veramente molto molto bello molto interessante e lui è rimasto affascinato pure tra l'altro sì Raffa Guarazzi personaggio straordinario veramente ragazzo delizioso ragazzo stiamo mona insomma una persona di un'umiltà straordinaria di una competenza sai cosa dice Pupi Avatti che l'Italia non ne fa più di quelli soprattutto l'elemento dell'umiltà e della serietà questa è davvero una cosa poco sì Pupi Avatti l'ha avuto per il ragazzo d'oro Raffa Guarazzi tu sei la colonna sonora sì comunque vi lascio Caterina adesso il film appunto uscirà il pezzo si chiama Ora mi alzo è uno dice Luciano Beria già un po' si preoccupa forse perché in realtà è una curiosissima specie di blues strampalato che lui fece per una azione scenica che andò in scena alla Biennale di Teatro a Venezia nel 59 ed è cantata nella versione originale da Cathy Berberian che era allora la moglie di Berio ed è una cosa veramente sorprendente io devo dire quando appunto quando mi mandò questo nastro che usciva dall'oblio perché credo che l'avesse sentito più nessuno da allora e sentire c'erano 40 minuti prima di Berio vero diciamo Berio autentico e poi queste due canzoni una delle quali parlava di New York ed era esattamente quello che dovevamo fare siamo andati a New York a girarla abbiamo ambientata e poi vedrete c'è anche Raffa in qualche maniera fortunosa quindi grazie Caterina la prossima abbiamo capito insomma che se se Caterina Caselli è interessata a un regista non solo gli fornisce le canzoni che conosce ma anche quelle che non conosce quindi che nessuno conosce quindi gli inediti infatti perché è un'azienda che ha all'interno dei collaboratori che conoscono molto bene quello che stiamo facendo e in più ci tengo a dire che questa azienda oggi è condotta da Filippo e quindi c'è la generazione che continua tra poco ci sono i miei ripoti insomma c'è una continuità diciamo tra l'altro tu hai fatto questa scelta di fare l'imprenditrice musicale molto presto quanti anni hai? non mi ricordo più talmente tanto tempo fa no allora io nel 70 dunque 72 76 eri giovanissima 77 sì sì eri giovanissima eri una star giovane di adesso sì lo siamo tutti purtroppo dico eri una star cioè mi ricordo che fu una scelta non non tanto capita ma allora diciamo che io mi sono sposata ho avuto un bambino quindi mi sono dedicata molto insomma diciamo alla mia famiglia e poi mi sono resa conto di una cosa in realtà che già quando cantavo io ho sempre avuto non sono mai stato il geloso degli altri ho sempre cioè ho sempre ammirato molto chi mi colpiva dal punto di vista creativo eccetera tanto è vero che inaspettatamente io mi ricordo che con Giorgio Gavere abbiamo condotto una trasmissione che si chiamava Diamoci del Tu nel 67 e io mi ricordo la sesta puntata e dissi Giorgio qui arrivano tutti gli artisti famosi importanti attori insomma una cosa dico ma io conosco un ragazzo che è sconosciuto l'unico suo problema è che è sconosciuto ma è straordinario cioè io sento Bob Dylan e poi sento lui e dico accidenti ma abbiamo un contemporaneo e lui e dico ma perché non lo presentiamo e dice hai ragione come si chiama Francesco Cucini e dico ma anche io ce n'ho uno mi ha detto lui e come si chiama Franco Battiato abbiamo presentato la stessa puntata allora io mi sono ricordata di questo cioè dopo questa mia parentesi personale e ho pensato io ho pensato ma io posso trovare un mio posto nuovo perché sapevo che comunque andare a cantare così insomma non era più insomma forse non sarebbe stato così tanto gradito nessuno mi ha chiesto niente ho deciso io a quel punto ho detto io potrei mettere in pratica questo cioè e mi sono sai ho sempre pensato vorrei essere un gradino per qualcun altro e questa cosa mi ha condotto se vuoi un po' anche quello che ha sempre detto Ladislau Suber che poi è diventato mio suocero cioè che un bravo editore deve difendere divulgare portare ricchezza all'opera dell'autore questo è sempre stato che è tuttora la filosofia della della Suber e quindi diciamo che in quel senso io poi mi sono approcciata sono stata curiosa di sentire insomma voci nuove artisti avevamo fatto anche un accordo con le radio commerciali avevamo detto avevo detto loro se avete qualcuno che ritenete che sia interessante eccetera eccetera mandatelo facevamo un incontro ogni mese nell'anfiteatro della CGD e ascoltavamo tutti questi ragazzi tra cui un giorno abbiamo scoperto Elisa ma è bello cioè un talento che diventa scopritore di talenti è raro io so che però tu avevi già scoperto dei talenti quando ancora facevi la cantante perché Francesco Ruccini me l'ha raccontato una volta perché era stato scartato nonostante fosse il board dealer in italiano per un problema di pronuncia che ho anche io io avevo detto alla CGD alla casa mia discografica io avevo detto ma prendetelo prendetelo cioè fate un contratto con noi e gli dicevano a me ce la rimosciano ma vi racconto un'altra cosa c'era una censura allora non si poteva io ho dovuto rincidere per fare un uomo un'ora d'amore per l'illusione un'ora d'amore perché non veniva trasmessa in radio pensate cos'era la censura insomma vabbè la censura è stata una tra l'altro Cuccini ho letto da qualche parte forse avevo preso è quello che sta vendendo più dischi in questo momento no ha fatto un disco di recente che è il più venduto ho letto questo non lo so e se è vero io sono felice ho letto un articolo dove diceva che questo disco è il più venduto in questo momento bello bello mi fa piacere senti e quando hanno deciso di fare ci vogliono tanti dischi così dobbiamo divulgare questi dischi che hanno questo contenuto è importantissimo perché naturalmente la censura non deve esistere però ci devono essere i conti d'altare certo dobbiamo avere queste persone che sanno come Paolo Conte abbiamo bisogno di questo perché sono degli grandi insegnamenti per i ragazzi che vogliono approcciare una carriera in questo senso no? senti torniamo ai film hanno fatto anche un film che si chiama Una vita cento vite l'ha fatto Renato De Maria un regista che fa molto cinema e molta televisione insomma e anche lì mi piacerebbe sapere la genesi cioè da chi è partita l'idea se hai posto delle condizioni quali le condizioni che hai posto allora no diciamo che all'interno dell'azienda insomma l'azienda deve crescere no? diciamo si è creato questa nuova diciamo idea di creare di fare cinema diciamo collaborando con altri perché noi non abbiamo quella diciamo così insomma quel lavoro cioè non l'abbiamo mai fatto però come dire abbiamo approcciato siamo stati vicini con la musica eccetera abbiamo captato l'odore diciamo e c'è una società che si chiama Sugar Play che ha questo compito e allora in azienda diciamo io sono stato un po' una cavia se vuoi c'era questa idea di raccontare un po' diciamo allora non so come insomma mi hanno parlato di Renato De Maria che io non conoscevo ci siamo incontrati in ufficio ed è successo una cosa meravigliosa cioè io ho sentito lui come veramente una persona come se la conoscessi da da cent'anni e poi mi sono subito fidata di lui a quel punto lui mi ha detto mi ha dato un riferimento di un film di Bob Dylan che mi ha dato ho preso il video tra l'altro di Marty Scorsese e mi sono guardata questo film e dicevo secondo me noi dobbiamo fare una cosa di questo genere cioè tu che racconti e così è stato e io mi sono trovato per la prima volta così a mio agio perché veramente lui c'era ma non c'era cioè anche tutte le persone del lato come se non ne esistessero quindi io mi sono lasciata andare e ho raccontato qualcosa che non avevo mai raccontato prima cioè cose molto delicate personali che riguardano mio padre un po' perché mia madre mi ha sempre detto no non si parla di questo e io invece lì mi sono trovata a mio agio e lui è stato prezioso da questo punto di vista e questo devo dire che è stato un ricordo che avevo sempre celato e non avevo mai non era mai riaffiorato insomma non avevo mai parlato con nessuno e quindi lui ha un grande merito da questo punto di vista ma poi è stato bravissimo un montaggio eccezionale quindi sai è molto difficile raccontare una vita in un'ora e mezzo cioè molto eppure eppure questi esistono questi miracoli e io sono una donna fortunata devo dire la verità perché come diceva proprio ieri Mogol che mi diceva guarda io sono un fortunato dico anch'io sono un fortunato è vero è vero senti sta avendo grande successo qui al festival la proiezione dell'unico film italiano in concorso che è un film che tu conosci che si chiama Non riattaccare c'è una Barbara Ronchi straordinaria che sta praticamente è un film non so chi di voi l'ha visto insomma è un film in cui c'è una persona in macchina per il film dura 95 minuti per 90 minuti al telefono e uno dice che palle invece è un thriller dei più dei più tesi nel quale c'è un altro un altro musicista Francesco Motta che conosci bene raccontaci un po' Motta questo film il rapporto con te Francesco insomma diciamo che noi lo conosciamo da un po' di anni abbiamo collaborato insieme abbiamo alcuni dischi bellissimi suoi adesso appunto anche questa colonna sonora è il suo ultimo disco che è in promozione adesso è un artista anche lui molto speciale lui ha le sue idee e le porta avanti con grande determinazione è un musicista gli piace suonare infatti è molto interessante quando lo si vede anche lui è un evento scenico sul palco ha una grande fisicità mi dispiace che ogni tanto non ti preoccupare comunque è un artista è un cantautore scrive i suoi brani testo e musica è molto anche ha un eloquio molto interessante è molto piacevole parlare con lui ha scritto un libro insomma diciamo che anche lui appartiene a questa sfera a queste proposte musicali che non si limitano solo a fare un disco ma hanno un discorso molto più ampio molto più diciamo così articolato tra l'altro non è facile fare la musica per un film come l'hai descritto cioè di una persona che sta sempre al telefono beh infatti bisogna come dire in realtà me lo ricordo perché dico qualcosa che mi disse Paolo Conte no scusi Ennio Morricone e lui mi disse sai io io penso a tre temi e poi in realtà io sviluppo lo stesso tema con diversi arrangiamenti in modo che alla fine il colui che vede il film si ricorda il motivo cioè è sempre sbagliato fare tanti brani diversi tra di loro ma in realtà è molto meglio fare una melodia e poi arrangiarla in un modo diverso alla fine sembrano tre versi ma in realtà è uno solo è stato il suo segreto questo quello è stato una grande è stato il suo segreto questo infatti rimane impresso anche nei film minori perché lui ha un suolo tra l'altro straordinario usava questo soprano meraviglioso e poi vabbè insomma lui poi è stato un grande allievo di Petrassi quindi ha imparato cioè ha inserito nella musica da film una grande esperienza e ricerca musicale comunque insomma e quindi insomma diciamo così che la musica da film è una musica che in realtà serve al film per sottolineare certi momenti importanti ma poi la buona musica può anche avere le gambe proprie camminare da sola come succede spesso volentieri senti quanti sono orientativamente i film ai quali Sugar ha fornito diciamo elementi dacci un'idea e quelli che magari ti sono rimasti più impressi le storie più strane più curiosi ma grosso modo come dicono i francesi tanti no per esempio anche l'ultimo film e sono felice perché l'ho applaudito e mi sono emozionata di Paola Cortelesi e c'è un brano cantato da Mina che però non è cantato da Mina lì in quel contesto ed è nessuno nessuno quindi poi ci sono le canzoni non so Tozzi per esempio l'abbiamo Gloria l'abbiamo sentito in diversi film importanti con gli artisti poi la stessa Elisa per esempio ha fornito la title 3 con Tina Turner con All the Invisible Children ah quello il film collettivo che è un film meraviglioso che praticamente contiene c'è una storia dell'invisibilità dei bambini che sono costretti a vivere una vita che non è quella dei bambini raccontata da Custurizza da ogni episodio Spike Lee John Woo insomma veramente Ridley Scott insomma è un film veramente notevole che dovrebbe essere divulgato e proiettato nelle scuole ancora adesso assolutamente e poi non so altri ma non so stante non mi vedono in me già questi danno l'idea e diciamo la richiesta più strana la situazione che ti ha colpito particolarmente l'incontro che col cinema che sul quale è ancora qualcosa da regalarci e invece raccontaci allora di Paolo Conte stasera al massimo c'è Paolo Conte una presenza della tua vita insomma che è data da quel dì primo incontro con Paolo Conte è stato quando io cantavo in realtà ho ascoltato una canzone che mi era proposta mi è stata proposta da un editore che era insieme a te non ci sto più e io mi sono innamorata di quella canzone prima l'avete mi sono innamorata della canzone prima ho sentito la sua canzone poi finalmente ho deciso di inciderla e lui venne in mio studio venne in mio studio e tra l'altro io sono un contralto quindi ho un'estensione vocale abbastanza cioè bassa e invece le partiture erano scritte con una tonalità più alta quindi lui mentre noi siamo andati a mangiare lui ha ribassato la tonalità per consentire a tutti i professori perché allora c'erano i professori che facevano i curri per fare tutti i professori perché lui infatti mi diceva sai dovevo essere molto preciso perché questi professori con gli uccellini così che andavano e lui praticamente l'ho conosciuto lì è un po' affascinante ovviamente poi più tardi ho conosciuto anche Egle devo dire e al di là del titolo della canzone insieme a te non ci sto più noi ci siamo invece incontrati tante volte poi ho avuto l'opportunità di conoscerlo anche dopo a lavorare per lui quindi l'ho seguito in tanti concerti nei dischi che abbiamo fatto all'Olimpia eccetera ovunque comunque per Paolo Conte Paolo Conte tutte le sue canzoni sono delle sceneggiature di film cioè io quando sento la canzone di Paolo al di là che lo veda anche in concerto così è come se io non sono ovviamente sapete dei miei limiti però è come se io abbracciassi una camera e andassi a seguire lui cioè faccio il percorso di quello che lui racconta attraverso la poesia dei suoi testi e poi i suoni che si sentono cioè praticamente io vedo è cinema insomma quello lo dice molto meglio di me Pasquale per esempio che è qui con noi non so dov'è è un grande scena eccolo qua e quindi devo dire che insomma Paolo Conte è unico credo che rimarrà proprio tra i grandi fuori classe del novecento sicuramente poi disegna benissimo attualmente c'è una mostra agli uffizi di Firenze di Firenze insomma diciamo che quando dicevo prima che sono fortunata perché la mia vita mi ha dato possibilità di incontrare tante persone dalle quali ho imparato sempre tanto ma anche persone non così famose però e questo mi ha dato la possibilità grazie non è un dono questo è proprio di essere curiosa di sentire di ascoltare gli altri perché fece un'etichetta che si chiama appunto l'ascolto proprio perché bisogna ascoltare e sapere ascoltare e questo e quindi io sono disponibile se c'è qualche regista che vuole pensare di insomma di avere qualche artista o diciamo musicista che possa fare o scrivere una colonna sonora noi ci siamo questo è il nostro lavoro e ci piace tantissimo farlo importante senti hai citato il film di paola cortellesi al quale partecipi e che come sai sta avendo un successo siderale un successo che va al di là di qualunque previsione ed è un successo legato purtroppo al momento che stiamo vivendo tu che sei stata per me e per la nostra generazione l'eroina femminile femminista vuoi dire qualcosa su questo momento tremendo? beh allora diciamo che io ho cantato nessuno mi può giudicare poi insieme a te non ci sto più casualmente sono due canzoni incredibili dove mettono sottolineo la prima è che la verità è senza tempo che la libertà di scelta è di tutte e di tutti questo è molto importante certo e insieme a te non ci sto più c'è questa donna che capisce che l'altro non è più e quindi c'è insieme a te non ci sto più a rivedere ci amore ci muore un po' per poter vivere dobbiamo dobbiamo accettare il rifiuto che la vita è una conquista e noi abbiamo abbiamo dobbiamo accettare anche la sofferenza che può derivare da un disognone da un momento in cui le tue persone si lasciano c'è sempre chi è lasciato magari soffre di più ma anche chi rimane quindi si muore un po' per poter vivere vuol dire un po' questo cioè che dobbiamo abituarci purtroppo ci sono queste tradelle che ci hanno colpito tutti quanti e la cosa anche importante è che se ognuno di noi ha un amico o un'amica magari vede che è in sofferenza eccetera non girarsi dall'altra parte magari a volte per discrezione non si interviene ma forse non è più il caso quindi conviene essere aiutati accorti ascoltare l'altro soprattutto rispettarsi la vicenda siamo delle persone uomini o donne che sia siamo delle persone e dobbiamo convivere insieme siamo tutti collegati è inutile quindi dobbiamo cercare di volerci bene che siamo tutti più felici e si vive più in armonia così e siamo più contenti e credo che questo messaggio che ci dà Caterina Caselli sia veramente la migliore maniera anche per darvi appuntamento questa sera alla proiezione del film che peraltro sarà nelle sale 4, 5 e 6 di dicembre quindi la settimana prossima come evento speciale questa sera è in anteprima qui al Torino Film Festival Caterina Caselli è stato un piacere averti qua con noi grazie a tutti voi per aver partecipato e continuiamo a seguire il festival grazie aspetta volevo dire una cosa no che esiste un podcast che racconta ci sono degli artisti importanti prima che io venissi qua mi ha chiamato Francesco De Gregori che partecipa ci sono degli artisti che parlano di Paolo Conte della sua delle sue creazioni ed è molto interessante con la pesce De Martino ci sono veramente andate ad ascoltare perché secondo me è un bel modo anche per arrivare a dei ragazzi che magari seguono i podcast sono seguitissimi meglio Paolo Conte posso intanto andare al cinema che è importante vedere un grande schermo il film ma poi questo podcast consente a tutti quanti di entrare nel mondo di Paolo Conte attraverso le voci e i sentimenti anche di personalità che voi conoscete popolari che stimiamo grazie grazie a tutti voi grazie grazie a tutti